Il maltempo di oggi Il maltempo che ci sta affliggendo per quanto riguarda la nostra regione da almeno due giorni e purtroppo non è ancora finita. Ma andiamo a vedere quali sono le notizie principali dal nostro sito newsremini.it. Siamo sempre in aggiornamento diretto sulla situazione maltempo, sotto passi allagati, centro invaso dall'acqua, piove anche in tribunale ed è stata evacuata una scuola. Poi ancora il maltempo che non molla perché dal pomeriggio scatterà l'allerta rossa. Quindi faremo un'ampia pagina al maltempo e poi in home page abbiamo ancora l'omicidio di Pierina Paganelli in via del ciclamino, le contraddizioni di Luis e il buco temporale a ridosso del delitto. Queste le nostre prime tre notizie in home page ma cominciamo appunto dal maltempo. Non si attenua l'ondata di maltempo sulla Romagna e dopo una breve tregua nelle prossime ore la situazione tornerà critica. Tanti i disagi. Sentiamo il servizio. Non arrivano buone notizie dalle previsioni meteorologiche. A partire dal pomeriggio infatti la protezione civile regionale ha diramato un'allerta rossa per tutta la Romagna e il bolognese. Ma il lubifragio che in mattinata già si è abbattuto sul territorio ha creato notevoli disagi. Sotto passi allagati sia a Rimini che a Riccione. L'intensità delle precipitazioni ha messo in difficoltà il deflusso dai tombini con strade invase dall'acqua. Numerosi gli allagamenti nelle abitazioni sia in zona mare che in centro con la pioggia che è caduta anche all'interno del tribunale. Alcuni tratti del centro storico riminese si sono allagati. L'acqua è risalita anche sull'arenile. Evacuata la scuola d'infanzia di via Tommaseo a Bellariva praticamente circondata dall'acqua con i genitori costretti ad accompagnare i bimbi in braccio fino alle auto camminando lungo le strade allagate. Dopo una breve tregua le precipitazioni sono attese con forte intensità già dalle prossime ore. Un'attenuazione prevista solo dal pomeriggio di domani. Allora tenete sempre sott'occhio il nostro sito newsremini.it perché continuamente aggiorniamo le notizie e pubblichiamo foto e video nuovi. Per esempio qui siamo sulla nostra prima notizia e potete vedere tutte le fotografie che ci arrivano dal centro ma anche da altre zone. Come vi abbiamo detto ci sono notevoli disagi anche sulle strade numerosi sottopassi allagati. Ecco questa è la nostra fotogallery si vedono i vigili del fuoco in azione. Vedete quanta acqua lo si vede appunto dai piedi a bagno delle persone. Questi sono dei papà che stanno accompagnando i loro figli a scuola. Poi ancora moto, motorini ecco si vede perfettamente la situazione del traffico. Questo per esempio è un sottopasso allagato e presidiato dalla polizia locale. Ovviamente vigili del fuoco al lavoro guardate questi sono dei tettini quelli che vedete delle auto in un sottopasso. Ovviamente vi diciamo questo sapendo anche che per il momento non ci sono persone ferite o comunque persone che sono state trasportate in ospedale per fortuna. Però ecco vedete che la situazione qui per esempio è questa in questa macchina ci sono delle persone all'interno. Ancora vedete questa persona, questa donna che cerca con le mani di togliere le foglie da un tombino proprio per permettere lo scolo dell'acqua. Ecco vedete queste sono tutte foto che abbiamo pubblicate noi sul nostro sito newsremini.it. Qui addirittura abbiamo la situazione al mare in spiaggia perché appunto anche lì la situazione è da monitorare benché ecco lì non ci siano troppi pericoli visto che la spiaggia appunto è deserta. Quindi diciamo che il monitoraggio più prossimo e più urgente è proprio quello sulle strade. Allora noi andiamo avanti perché abbiamo sentito anche dal servizio di Andrea Polazzi che non ci sono purtroppo buone notizie dal meteo perché a partire da questo pomeriggio sono previste precipitazioni più consistenti sul settore centro orientale della regione che permarranno anche nella giornata di domani e qui arriva una buona notizia perché nel pomeriggio potrebbe arrivare nel pomeriggio di domani un'attenuazione di questi fenomeni. La protezione civile ha diramato allerta rossa per tutta la Romagna e il bolognese. Allora noi adesso lasciamo la pagina del maltempo per occuparci di cronaca in particolare del caso dell'omicidio di Pierina Paganelli perché questi sono giorni in cui si aggiungono capitoli a questa storia che ormai stiamo seguendo da quasi un anno. Il 3 ottobre sarà precisamente un anno dal delitto. E cosa è successo? È successo che Luis, ieri mattina in carcere davanti al pubblico ministero, come era prevedibile, ha deciso di non parlare. E intanto emergono alcune contraddizioni che il senegalese non ha mai chiarito. Sentiamo. Luis da Silva si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero, Daniele Paci, avrebbe voluto offrire al senegalese la possibilità di chiarire le numerose contraddizioni emerse in sede di interrogatorio il 25 giugno scorso. Tra queste spiccano le menzogne, così le definisce la procura, su quanto accaduta la sera del delitto, il 3 ottobre 2023, tra le ore 20 e le 22.06. Luis e la moglie Valeria Bartolucci hanno sempre sostenuto di aver cenato in casa e di essere rimasti all'interno dell'abitazione. Avrebbero guardati insieme un film su Netflix, poi Valeria sarebbe andata in camera da letta a dormire, mentre Luis sarebbe rimasto a riposare in sala, così da stendere la gamba dolorante a causa dell'incidente in moto avvenuto il pomeriggio prima. Ebbene, per la procura, Luis quella sera è stato capace di muoversi e trascorrere 12 minuti sul balcone di casa, a ridosso del rientro di Pierina. I coniugi, inoltre, non avrebbero saputo indicare il titolo corretto del contenuto riprodotto su Netflix, ma c'è di più, perché gli investigatori sono stati in grado di accertare che la riproduzione video è stata interrotta alle 22.06, circa 12 minuti prima dell'effettiva conclusione dello stesso e, soprattutto, quasi due minuti prima che l'auto della vittima percorresse la rampa che conduce ai garage condominali. In ultimo, sostiene l'accusa, le successive interazioni di dispositivi in uso all'indagato, ovvero il cellulare e gli auricolari associati, riprendono alle 22.38, dopo l'omicidio di Pierina. Un buco delle interazioni, quello tra le 22.06, orario di disconnessione alla piattaforma Netflix, e le 22.38, orario in cui vengono registrati dei passi dall'applicazione del cellulare di Da Silva, nel quale la procura ipotizza che lo stesso sia sceso nei garage per uccidere la 78enne. E questo è il punto sull'omicidio di Pierina Paganelli. Noi andiamo avanti dal nostro sito newsrimini.it, scorrendo le notizie, ovviamente molte sono, come abbiamo detto, dedicate al maltempo, frane e colate di fango in Valconca, i fiumi ancora sotto la soglia d'attenzione, maltempo a Riccione, chiusi tre sottopassi, ritornati agibili dopo un'ora, e poi ancora chiusa via Morciano a San Clemente per smottamento e limitazioni su via Tavoleto, questo appunto è la cronaca del maltempo. E troviamo anche notizie di politica, in particolare questa, Movimento 5 Stelle, la lista dei candidati riminesi per le regionali, e sono quattro i nomi, venerdì 20 settembre, dalle 10 alle 22, sul portale del Movimento 5 Stelle, ci sarà la votazione per approvare la lista dei candidati alle regionali per la provincia di Rimini. I quattro nomi sono quelli di Maria Angela Bigoli, consulente aziendale Bellare Giamarina, Alberto Nicolini, ingegnere di Rimini, Simona Domeniconi, commerciale di Rimini, e Federico Lepore, imprenditore di Riccione. Questi sono i candidati proposti per la provincia di Rimini, commentano i coordinatori regionali Marco Croati e Gabriele Lanzi. Sono pronti a rappresentare i cittadini con dedizione e competenza, questo momento è fondamentale per confermare una squadra che porterà avanti le nostre proposte per il futuro della regione. Questa è la notizia di politica che abbiamo pubblicato sul nostro sito newsrimini.it e andiamo avanti con un altro servizio per parlare degli 80 anni dalla liberazione, quando una Rimini distrutta iniziò a rialzarsi. Ci sono diverse iniziative per questo importante anniversario che sono state presentate ieri mattina. Sentiamo. Dal novembre 1943 iniziavano 300 giorni di distruzione, morte, paura, violenza. 396 bombardamenti che distrussero l'80% degli edifici lasciando Rimini in ginocchio, deserta, gli abitanti sfollati. Ma il 21 settembre 1944 fu l'inizio di un nuovo mondo. La liberazione, i soldati greci della terza brigata di montagna i primi ad entrare, dopo che nella notte tra il 19 e il 20 i soldati canadesi si erano aperti un varco a San Fortunato sul colle di Covignano. Alle 19 e 15 su un palazzo garampi distrutto sventolavano la bandiera greca e quella canadese. Quello stesso giorno, mentre ancora le armi sparavano, l'anagrafe riminese registrava due nascite, le uniche, dei piccoli Gerardo e Mafalda. Una storia di distruzione quindi, ma anche di rinascita che merita di non essere dimenticata. E così nell'ottantesimo anniversario il Comune, Conampi, Istituto per la Storia della Resistenza e Associazione Nazionale Vittime di Guerra ha messo in piedi una serie di iniziative dedicate in particolare ai più giovani. Purtroppo dopo 80 anni le memorie, le testimonianze iniziano ad essere poche, a deficere. Qualcuno appunto viene a mancare. Le testimonianze dirette sono poche, ma anche quelle indirette. Le nuove generazioni magari non hanno sentito raccontare, neanche raccontare della guerra e dei disastri che ha provocato a Rimini. E proprio per questo tutte le iniziative che abbiamo realizzato hanno proprio questo taglio. Quindi utilizzare un nuovo linguaggio per raccontare la storia e gli episodi più tragici di Rimini, così come la liberazione che deve essere invece un momento di celebrazione e di festa per la nostra città. Si partirà venerdì nella Cineteca di Via Gambalunga alle 18 con la presentazione del podcast La Liberazione di Rimini curato dallo storico Andrea Sant'Angelo e prodotto dal gruppo Icaro. Sabato alle 9.30 al Teatro Galli un incontro a cui parteciperà anche Martin Schulz presidente emerito del Parlamento Europeo. Lo stesso giorno alle 17.30 sempre in Cineteca la presentazione del gioco da tavolo storico Rimini libera. E poi domenica il CAI organizzerà alle 8.30 una camminata a Covignano nei luoghi simbolici della battaglia mentre dal porto partirà la veleggiata per la pace e tante altre iniziative ancora tutte accomunate da una volontà quella di non dimenticare. E adesso ci occupiamo di parità parità di genere perché è stata inaugurata la mostra Donne e Lavoro ieri pomeriggio. C'è poco da ridere Donne e Lavoro c'è poco da ridere che espone le vignette di tre fumettisti che si interrogano sul gap di genere e sui problemi legati al tema delle donne e del lavoro. Insieme agli organizzatori all'incontro di apertura c'era Stefania Spanò in arte anarchica che è una delle tre artiste esposte. Sentiamo. Raccontare le storture della realtà attraverso le vignette. Fino al 29 settembre presso la sala Sant'Agostino di Rimini saranno esposti i fumetti di anarchica Pat Carra e Chino il creatore di Mafalda. Tre autori che mettono in luce con ironia ma senza sconti le disparità tra donne e uomo ancora esistenti nel mondo del lavoro e nella società in genere. La mostra fa parte di un progetto più ampio dedicato alla certificazione della parità di genere. È un progetto che le donne atli di Rimini assieme a tanti altri partner hanno realizzato sulla certificazione di genere nelle aziende. Quindi partiamo da un progetto che parla di gender gap nel lavoro soprattutto e poi arriviamo ad oggi con un evento che si inserisce in questo percorso che è un evento di tipo culturale nel quale abbiamo riunito degli artisti che hanno usato la loro opera per fare una denuncia per quelle che sono le discriminazioni del mondo femminile e quindi non soltanto nel mondo del lavoro nell'ambito della violenza di genere nell'ambito della discriminazione diciamo così anche culturale rispetto al mondo femminile. Due sono artiste contemporanee Pat Carla è anarchica e il terzo è Chino che insomma non ha quasi bisogno di presentazioni che disegna per nove anni un personaggio che è Mafalda che è una paladina dei diritti civili delle donne. Le mie vignette raccontano di donne di piccole e grandi discriminazioni ho iniziato parlando un po' di anni fa di violenza violenza sulle donne qui stasera però abbiamo una parte di quel lavoro che invece va a toccare donne e lavoro appunto quindi moleste sul lavoro difficoltà a mantenere il posto di lavoro per le donne che ancora oggi quando sono in gravidanza sono costrette ahimè ad abbandonare il posto di lavoro oppure a scegliere quelle forme part time per cui comunque abbiamo ancora un gender gap che è difficile da colmare. Sono felicissima di essere qui stasera Rimini per me è un po' casa però questa è una situazione nuova e essere in compagnia di delle vignette di Pat Carrà e di Quino ovviamente per me è un onore grandissimo. prendiamo adesso di un altro evento che arriverà il 21-22 settembre a Rimini a Giardini d'autore arriva Lavanda l'intelligenza artificiale che dà consigli green questa volta appunto Giardini d'autore nella sua veste autunnale quindi l'edizione di settembre nel cuore del centro storico tante occasioni per gli amanti del verde tra laboratori presentazioni libri ed eventi green e quest'anno i consigli appunto di giardinaggio arriveranno anche dall'intelligenza artificiale sentiamo le piante i colori dell'autunno il foliage protagonisti dell'edizione autunnale di Giardini d'autore che si svolgerà il 21-22 settembre tra Castel Sismondo la piazza dei sogni e l'arena Francesca da Rimini due giorni dedicati a collezioni botaniche natura design arte artigianato sapori e frutti ormai gli appassionati di Giardini d'autore quelli che frequentano da anni il nostro appuntamento sanno che questa è la stagione diciamo più bella quella dei colori delle graminace dei frutti delle chinace delle collezioni botaniche che in questo momento danno veramente il meglio che solo l'autunno e una stagione come l'autunno sa regalare in arrivo vivaisti artigiani e designer da tutta Italia ma anche creator digitali del green con canali seguiti da migliaia di persone i colori caldi ed avvolgenti dell'autunno hanno anche ispirato la prima fragranza non casualmente chiamata Fogliage creata in esclusiva per giardini d'autore e all'evento parteciperà anche lavanda noi da anni sappiamo che il pubblico di giardini d'autore è un pubblico sempre più giovane sono quelli che vengono definiti i grill lovers e anche il web ci restituisce questa nuova tendenza tant'è che a giardini d'autore sono state rinnovate le collaborazioni con sfobbo esperto in piante in piante tropicali che anche quest'anno sarà a giardini d'autore con Francesco Di Lido di Balcone Fiorito e con Andrea De Luca che ci parleranno appunto di segreti e tecniche ma soprattutto il pubblico di giardini d'autore troverà in questa edizione una nuova assistente che è Lavanda Lavanda è un'assistente digitale realizzata e creata con l'intelligenza appunto artificiale che saprà rispondere a tutti i dubbi e le domande legate al giardinaggio alle piante quindi non ci sono più scuse per non cimentarsi nell'arte del giardinaggio o per chi dice che non ha il pollice verde Allora adesso andiamo a vedere il meteo e partiamo dall'Ansa Emilia Romagna che si occupa praticamente solo di questo in Emilia Romagna l'allerta diventa rossa come vi abbiamo detto la Romagna rivive l'incubo alluvione sono possibili gli straripamenti quindi come abbiamo detto la protezione civile ha emanato l'allerta regionale da arancione diventa rossa dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani fino alla mezzanotte del 20 settembre e poi a Forlice Sena allagamenti e alberi pericolanti insomma ecco la situazione è monitorata ovviamente sull'Ansa Emilia Romagna c'è anche in primo piano la tragedia di Parma i carabinieri nel giardino dei neonati sepolti e si scava ancora allora meteo quindi vediamo le previsioni del tempo sulla regione molto nuvoloso coperto precipitazioni moderate e continue a tratti anche a carattere di rovescio temporale che saranno probabili sui rilievi centro orientali vediamo le temperature quasi stazionarie con le massime tra i 18 e i 21 gradi eventi deboli da nord in pianura deboli moderati dai quadranti orientali con rinforzi sul mare sulla costa e sul crinale mare molto mosso tendente a divenire localmente agitato allargo in nottata dettaglio su rimini lo vediamo pomeriggio sera mattina insomma qua non c'è differenza se non appunto per l'intensità delle precipitazioni quindi pioverà piove e pioverà per tutto il giorno vediamo le temperature dai 20 ai 23 gradi sulla costa invece comprese tra i 12 e i 19 gradi sui rilievi il sole oggi è sorto alle 6 e 53 e tramonterà alle 19 e 13 è tutto per questa edizione del Tg del pomeriggio vi rimando alle nostre edizioni serali delle 19 e 15 e 20 e 15 buon proseguimento di giornata grazie a tutti